Sì 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 Dio merda Cazzo è arrivato là quello Cazzo ha fatto arrivare là C'è uno dietro E' tra me e voi Dove stanno? Eccolo appunto Cazzo grande serra Ce n'è uno qua sopra Ok Push 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 No non è vero Come no? Non c'è non c'è Oh raga a destra qua Appunto Vai vai rush la puscilo Eccolo appunto Faccia di merda Oh Iago Lo vuoi sto kit o te ne devi andare? Via qua Grazie E' niente Ah hanno messo un cartello L'hai visto? Ma sei stato davanti al presidente Ma ci sia solo noi sul server Ma ci sia solo noi sul server Eh infatti Eh perchè siamo splottati sul centro Cazzo Su una valle così grande E' difficile che non ci sia qualcuno Qualcuno ha un'altica lunga Eeeh Cazzo ecco ecco 340 340 Eh sono in 3 li vedi? Li vedo li vedo Preso Merda Ah uno in mezzo al campo a 320 anche Mezzo al campo Eh dio Ma che cazzo di mirano? Reston tirami su Reston Attimo Dove sei Qua di trita Di trita Di trita Cosa siamo anche in vantaggio D'altezza WTF Ma che cazzo di mirano? Come fa? WTF Quindi aveva sbagliato un colpo Cio Dio che non c'era nessuno fino a... Allora dentro la casa Preso Dentro la casa Reston Eh sto alzando Figuro C'è servo Ok si stanno ancora Ah c'è gente dentro la casetta grigie Ah le vedo Casa rossa qua sotto Preso ai piedi Ma dove cazzo è che sparano? Alla casetta grigia di fronte Ma sono sul palazzo rosso loro? Qua Dove ho messo il mar Che stanno su... Sì Ok C'è uno l'ho tirato sui piedi Che era qua il palazzo rosso Preso Senti io li lascio sti stro... Ah ecco lì Lo vedo lo vedo Sotto sotto Piano terra dell'edificio rosso Dai che muore Sta cercando di tirarlo su Noi li lasciamo Ciò rischiamo Provo lanciargli una granata di sopra Mi sta sparando dall'edificio grigio a me Noi ii Noi ii Noi ii Noi ii Noi ii Noi ii Ok Lo sopra Uno sotto Uno sopra Uno è morto Uno sta sopra, Iago. Sta dove c'è la cucina, la cucina. Uno è noccato nella cucina. L'altro sta, dove sta il trattore? Ok. Vai, vai, Sir, vai, vai. La sinistra è. Sì, lo stanno. Lo stanno. Lo stanno. La f***a. Lo vuoi. Eccolo, eccolo. Io sto occupando il drop. No, c'è in mezzo del campo, sta correndo. Sono in due. Ok, li vedo. Preso, noccato. Ammazza quello che è noccato. Cazzo, ci stanno tutti raggruppando qui adesso. Anche dritto, 305, distantissimi, li vedi? Sì, l'ho visto. Un altro colpo è morto. Preso. Ok. Il drop, il drop sta correndo adesso. Preso, preso, preso. Vai, bella, bella. Ancora, vai ancora. Ancora un altro colpo. Preso. Bella, noccato. Li vedi in fondo, in fondo, dritto? Sì, li vedo. Ucciso. Ok, bella. Mi servono colpi, ragazzo. Sono 7,62. Sì. Ok, ok. Da sopra dovremmo, noi stanno sparando. Oh, ne vedo uno. Dove? Direzione? 305 e mezzo al capo. Preso. Lo vedo. Preso. Preso, bella. Ucciso, ucciso. Mamma mia, che bella. Occhio che ce n'era un altro anche. È morto subito. Ah, ok. Sopra la collina? Oh, ne vedo uno. Dove? Con il disegnetto, 285. Sta dietro la casa. Ah, ok. Eh, lo vedo, lo vedo. Sì, è un altro, sono in due. Ok. Ok, hanno sorpassato la casa. Dove sono a sinistra? Ah, li vedo, li vedo. Sono in tre, sono tre. Preso. Dove c'è il sasso? Si è sdraiato. Uno è più sulla destra anche. Preso. Ancora dietro il sasso? No, non c'è questo. Ha corso dietro la casa, no? Sono fuori zona loro. Eccoli, è morto, è morto. Preso. Bastardi. Però erano in tre, con lì. No, erano in due. Uno è visto i tre. Ah, ok, là non. Siete sul bordo. Sì. Oh, un altro, un altro. Dove, dove? Vicino al carro, al trattore. Vicino dove? Al trattore, 330. Ok, lo vedo. Ora sta là dietro. 330. Dietro il trattore, proprio? Sì, eh no, adesso sei. Eh no, hai. Verso nord. E dove c'è anche il camion? Il camion è scassato? Sì. Eh cazzo, io non vedo nessuno, come è possibile. E se ne è andato via? È andato via dove, cazzo? Zona blu? Verso nord. Verso la macchina. Al 335. L'ho perso. Davanti a noi, eh, dietro, dove ci sono le rocce, a 25. 25? Sì. Sì, di vero. Ando saltando sulle rocce. Un quale rocce? Sì, so. Anche 75. Oh. Ah, ok. Andiamo, ce ne andiamo. Preso. Uno l'ha noccato. Vai via via via. Vado sulla sinistra io. C'è uno oltre i cento. In mezzo agli alberi. Preso, è noccato. Quello sull'angere è noccato. No, due dietro le rocce. Due dietro le rocce. Ok, sono i due di prima. Dove c'è la smoke. Ok, lo vedo. Loccato. Merda. Ce n'è ancora uno. Sono lì sulla roccia. Lancio granata anche io. È salito sulla roccia. Due. Oh, cazzo. Ce n'era un'altra, mi sa. O l'ha ucciso in mezzo alle rocce. Cioè, non ho noccato in mezzo alle rocce. Verso il capannone. Cazzo, qualcuno ha un kit? Io ne ho. Miservo, corri, corri, corri. Buono, buono, buono. Ne ho noccato uno che stava strisciando qua in mezzo. Dammi il kit, dammi il kit. Messo giù, messo giù. Dove cazzo è? Oh. Qua, qua, davanti a me. Merda. Sopra, sasso. Eh, ormai sono morto io. Eh, che cazzo. Dai, sei su contro quattro. No, dai, non puoi solo essere così scontati, cazzo. Mi sembrava strano. Cazzo, bella partita comunque, minchia. Ho fatto un massacro. Ok. Grazie.